bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui di nuovo con venerdì 13 mi sta appassionando molto perché questo gioco riesce a dare delle emozioni che gli altri giochi non possono dare ci vediamo una volta fatto ciò che ragazzi sono entrato in una sessione tra 3 2 1 poi con la partita crystal lake adesso mi sentite tipo tutto strano con del lag pazzesco perché sta caricando ragazzi facciamoci sta partita qua qua ci sta un altro caricamento allora ci vediamo dopo ok ragazzi sono entrato in partita camp crystal lake 1979 ma allora arriva la rai che vi faccio un altro stato del gioco voglio essere già non siamo già sono che felicità al quadrato al quadrato avete capito la battuta da la porta chi è prendiamo abbiamo preso lo spy medicinale belle chiudiamo tutta chi ha 20 sono raga un fucile raga ho un fucile mani d'altro ho un fucile da caccia allora io lo sai che direi io direi di siccome non vedo niente ok ragazzi sto lottando questo posto quanti medikit ci stanno quanti conti va bene ma c'è la benzina raga se non vedete niente perché perché questo gioco è fatto proprio così non so come si fa ad aumentare la la luminosità però qui dentro c'è la benzina e io un fucile io non vorrei lasciare il fucile aspettate che qua cosa oh no pensavo c'era una cosa per ci sta la barca no non c'è la barca allora qua c'è un cassetto vediamo dei petardi i petardi sono sempre buoni ragazzi io non so che fare prendere il fucile o prendere la benzina perché se prendo la benzina raga c'è un fucile io devo andare perché devo scortare i miei amici io c'ho un fucile mi devo scortare fino a lui la signorina mi stava perseguire ora che più non cosa hanno messo già la batteria se sta la scappa senza di me raga non so se correre perché se corro ti roggiate raga raga l'ho stumato aiuto raga mi ha fatto una botta di lag questa pazzesca raga devo correre devo scortare ma porco ah 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 puntati oh no no raga raga devo entrare aiuto liberati liberati raga mi sono liberato non so come non so come raga lanci i petardi lanci i petardi boom lanci i petardi aiuto raga non ho più il fucile non so che fare non ho più il fucile non ho più il fucile ehm ehm cazzo non so l'inglese ehm shotgun shotgun raga c'è un pezzo di legno siamo postati da un fucile a un pezzo di legno raga c'è già raga ti combattio Jason non gli fai paura all'urdo che errore mi vuole lanciare i coltellini raga così lo faccio incazzare comunque i petardi sono serviti i petardi sono serviti da allontanarli sto lasciando dei miei amici e li sto abbandonando pure ragazzi io prendo la sono indeciso se prendere la benzina perché se prendo la batteria perché se prendo la batteria poi si è disarmato qua c'è Jason oh cazzo non urlare se è di luce ragazzi io faccio l'uomo forte lo fate da un bazzetto che cazzo è finito regalo tutto regalo tutto ragazzi faccio così quando muoio ragazzi io macciucco così recupero dell'energia ragazzi qua ci stanno delle chiavi della macchia tipo ci sta un ruffo tipo che sta parlando ma io non lo faccio no cacchio quando il bastone questo no ragazzi la padella la padella è buona la padella la padella che scoppia ragazzi hanno messo in moto ora scappano senza di me questi ragazzi qua scappano senza di me se ne stanno andando già sono fermati già sono lì devi fermare stanno scappando lo sapete sta scappando bravo jason bravo jason oh ci si non non no jason jason io voglio fermarti cacchier cori stupido non mi fai mi fai mi fai MF ti fai mi fai MF non mi fai MF non mi fai MF ragazzi ragazzi questo lancia i coltellini dai entra entra che c'è la trappola dai entra si ha il coraggio eh lurido ragazzi mi sto cagando sotto se non parlo è perchè mi sto cagando sotto mi sa che Jason se n'è andato mi sa oh però avete visto cosa ho fatto prima mi sono buttato dalla finestra come se non ci fossero domani io provo ad uscire io provo in caso mi ammazza la beba cosa ha fatto finta ha fatto finta di uscire ma Jason ma che tipo di Jason sei rubi pure no ragazzi non avete capito ho scrollato ha ricargato la special e tizia tizia mi serve tizia mi serve ragazzi lo studio lo devo studiare ragazzi lo studio ragazzi lo devo studiare questo vai no no ragazzi avete visto quella tizia non ha fatto niente vabbè che femmina però io lo stavo per stumare io riprendo la palella ok me ne vado me ne vado me ne vado ragazzi avete visto vado mi sto rovendo ragazzi il mio personaggio sta morando dalla paura manco la minimappa si vede più andiamo in questa casa è una casa ma questo è il bagno dell'inizio dove siamo spaurati ebbè recuperiamo un po' di stamina e poi ci siamo salvati per miracolo e io non so dove andare controlliamo un po' la mappa e dire di andare dai nostri amici là laggiù aiuto perché raga io sono fortissimo sono fortissimo con il flare con la pistola del flare con quello faccio davvero i miracoli io boccio una padella invece del flare questo è solo un po' della cacca giusto c'è jason ragazzi c'è jason aiuto aiuto e il mio personaggio inciampa inciampa vado non so se questi qua stanno riparando l'auto perché si perché si stanno riparando l'auto e siamo nella cacca lo sapete perché questo jason non è tanto sveglio mi sono riuscito a liberare due volte vero jason si ma basta il primo colpo non è tanto sveglio questo per questo si sta riparando l'auto siamo nella cacca vera e comunque quell'altro che è scappato da solo mi sa che toby jarvis lui se ne è andato è scappato però poi è spawnato come toby jarvis per questo non gli conta la vittoria beh comunque questo gioco è difficilissimo vincere tipo io ci sono più ci sono riuscito un paio di volte ragazzi ci sono riuscito un paio di volte solo perché un tempo quando giocavo tantissimo a sto gioco ci sapevo giocare davvero tante sta parti con la quello sta parti e jason che fa vabbè oh che è già so di merda che è già so di merda non punto l'ha data pia l'ha data pia l'ha data pia ma noi corriamo adesso dobbiamo correre raga noi corriamo stiamo a consumare tutta la stamina lo so però ci serve noi corriamo perché lui sta rimettendo in moto la macchina aiuto aiuto raga recuperiamo un po' di stamina perché l'ha boversa e poi ricordiamo questo è scappato di nuovo ma sto jason fa schifo guarda che scandaloso guarda perdiamo perdiamo siamo rimasti in due nella mappa no raga volevi pigliare noi raga volevi pigliare noi noi ci buttiamo c'è un bacio c'è un bacio meglio lo facete cosa ho sfondato la porta qualcuno ha chiamato la polizia raga però non ce la facciamo non ce la facciamo è troppo forte raga non ce la facciamo in troppo forte imbecille oh raga oh usa i cheat questo non l'ho sfondato non l'ho sfondato raga mi ha preso mi ha preso con un coltellino ho vissuto l'ha ammazzato nessuno per tutta la partita vuole ammazzare me ma ti vuoi e tu corri corri allora raga io cerco di parlare con jason cerco di parlare con jason dei petardi ci stanno di petardi oh jason e help help eh scappone cacchio gli posso dire cacchio gli posso dire he's coming go cacchio l'ho fatto ma che cazzo fa la marotona di raga l'ho stungato raga l'ho fatto con scape in terra a questo raga recupero un po' di stamina raga che cacchio ti fa raga ho schifato il coltellino per pochissimo che cacchio ho fatto raga sono della cacca raga ma della cacca seria you escapist auto you escapist auto come si dice dei escapist auto run run sto cercando di dire che quelli la stella scappa con l'auto però però ha funzionato raga mi ha capito ma ha capito ma sperma no non mi ha capito ci sono solo io raga no raga attenti che ora parte il mio jumpscare parte il mio jumpscare io ve lo dico io non voglio che parte ma parte raga tra due minuti c'è la polizia secondo me sai che cosa è successo io gli ho detto che quelli la stanno andando dalla polizia stanno scappando non sono l'unico della mappa raga questo è un bene questo è un bene no io li odio i player raga questo si attacca a me se si attacca a me è bestemmia tu non ti devi attaccare a me capito così almeno se jason tu fai rumore che raga cerchiamo di andare alla polizia speriamo che sta alla nostra destra perché se non sta a destra siamo morti perché la stabile non ce la facciamo jason ci piglia perché è tre volte più veloce ma mi sto fuoco troppo se scappiamo questo è il secondo bisogno di venerdì 13 sul canale se scappiamo mi metto tipo apriamo lo champagne e facciamo festa io spegnerei la torcia così ci facciamo lo paralelo mi metto qua cosa? ho detto la parolaccia perché raga avevo paura ma quanti cazzo di coltelli hai? ma cosa fai la collezione? ti stupo io la polizia di un perte non viene non viene non viene e sto così raga se vuoi fa se vuoi fa se vuoi fa ti stupo no no mi ha preso mi ha preso cerco di liberarmi ma non posso vabbè raga ha piccolato in faccia va ben piccolato in faccia vabbè raga morto vabbè ragazzi questo video è tutto se vi è piaciuto lasciate un like è stata molto epica sta partita è stata epica perché raga ma chi se l'aspettava? chi se l'aspettava? poi raga la polizia non è venuta tutto sto tempo poteva venire prima aiuto polizia di cacca ragazzi se vi è piaciuto questo episodio lasciate like iscrivetevi al canale e condividete il video con dei vostri amici da l'opnetta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.